Dal 2 a 4 agosto si terrà il 46esimo incontro internazionale di folclore che quest'anno appunto torna sulla piazza principale del comune, piazza Vittorio Veneto a seguito di interventi ultimati grazie al piano nazionale complementare. Naturalmente per noi rappresenta un elemento di forte orgoglio perché appunto consente di attrarre moltissimi turisti provenienti da ogni parte della provincia ma soprattutto della regione. Questa iniziativa si colloca all'interno di un calendario estivo che prevede una serie di manifestazioni per la terza età, per bambini, tornei estivi, teatri dialettali e una serie appunto di iniziative che sicuramente consentiranno a tutti i cittadini di Penna Sant'Andrea di poter divertirsi in un'estate 2024. Anche con la sagra del pane casereccio. Senz'altro questa è anche l'occasione per festeggiare il quindicesimo anniversario della sagra del pane casereccio che da sempre appunto contraddistingue il nostro territorio.